Ma io veramente non ci posso credere, ma come si fa da, ma come si fa a pareggiare così, due a due, ci hanno rimontati due gol, due gol a Belote, mai te, mai te, qua, che figli mei, come si fa? Ma come si fa a farsi rimontare due gol dopo che tu nel primo tempo hai dominato la partita, li hai pressati, li hai tenuti alle corte e poi nel secondo tempo, boom, non ci scendi più in capo perché non vuoi prendere punti, perché sembra proprio che tu non vuoi vincere una partita. Cioè, boom, ma, ma, io nel primo tempo subito a pensare, subito a pensare al video, ma devo fare finalmente uno sfogo di felicità, che grandissimo gol di Perisic sull'assist di Cardi, segna De Vrij, bla bla bla, e poi ti fa rimontare due gol, cioè, ci facciamo rimontare due gol così? Ci facciamo segnare da mai te, che poi diventerà un fenomeno, oggi ha fatto una grandissima partita, eh, però, regà, dai, ma li avete visti i gol? Cioè, ma che gol di merda, scusatemi, eh, però, cioè, dai, Andanovic, figlio mio, sul primo gol lancio lungo, Andanovic esce in anticipo, non sa manco lui che cosa fa, sbaglia l'uscita che, boh, manco un portiere di seconda categoria, figlio mio, poi qua, quando segna mai te al sessantottesimo, che cosa succede? Quello si scarta, sul rimpallo arriva la palla a lui, si scarta, mezza difesa, e arriva davanti al portiere, tira, la palla entra, Andanovic, dopo che la palla è entrata, cioè, bah, bah, Andanovic non si butta più, Spero si svegli veramente, vivamente, perché è un gran portiere, però si deve svegliare, perché, qua è da, è da gennaio, diciamo, che perde colpi, eh, sarà la vecchiaia, però è da gennaio che perde colpi, Quindi si deve svegliare assolutamente, Andanovic, raga, come si fa, poi, i guardi che mi sbaglia all'ultimo, cioè, davanti alla porta, fa il numero Lautaro, mamma mia Lautaro, che giocatore, Fa un numero, cross, tiro, come la prende, come la prende la palla davanti alla porta, di qua, di questa parte qua, a caso, a caso, da quella parte la palla se ne va in aria, Ma abbiamo perso con Torino, così, abbiamo perso il rimonta, così, io sono stato ieri a prendere in giro il Milan, ma noi perdiamo così, perdiamo uguale, cioè, perdiamo, pareggiamo, però è una sconfitta, In due partite, un punto, distacco quindi da, cinque punti dalla Juve, e noi dovremmo essere l'anti Juve, no, pensiamo prima ai fatti, prima sul campo, e poi si vede, a fine campionato, ti è, se siamo stati, anzi, l'anti Juve, però, non va così, deve girare questa Inter, deve riscattarsi, Adesso, è stato un piccolo sfogo, regà, perché, comunque, cacchio, in due partite mi fai un punto, così, in due partite giocate malissimo, fai un primo tempo, boom, secondo tempo, boom, Comunque, rispetto a Sassuolo, sicuramente ha giocato molto meglio, soprattutto Perisic, che in fase di attacco è stato, diciamo, tra gli unici, che ha avuto più spunti, E, appunto, Skriniar, che, comunque, nel secondo tempo è calato insieme a tutti gli altri, insieme a Brozovic, sembravano proprio stanti, vabbò, Potrebbe essere, appunto, questa preparazione qua, e bla bla bla, aspettiamo, quindi, la terza giornata di campionato, che, tra l'altro, quando si gioca, si gioca addirittura, l'1 settembre, sì, sì, quindi, aspettiamo l'1 settembre, aspettiamo questa terza giornata, Vediamo un po', come andrà a finire, spero, ovviamente, in una vittoria, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, e ciao!